www.feyyaz.tv 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 Diventerà una celebrità, ma cercheranno di distruggerla. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Facci il nome, Buscetta. Per me non ci sono intoccabili. Perché il test mette su ogni cosa. Perché mi ha levato la pace dalla mia famiglia. Usa i politici? E quali politici? Mi aspettavo il ruggito del leone, ho sentito lo squittio di un topo. Questa vera non è finita appena cominciata. La mafia non è invincibile. È un fenomeno umano. Ha avuto l'inizio e avrà una fine. La mafia non è finita appena cominciata.